mamma che rabbia che rabbia cazzo sta partita che rabbia appena chiuso la live mi viene veramente da spaccare tutto mamma che rabbia ma come si fa veramente cioè treviso che perde una partita che poteva vincere come caspita voleva cioè treviso sta partita la poteva vincere come cavolo voleva alla fine all'inizio della partita treviso gli scarlet erano addormentati sbagliavano le rimesse laterali non difendevano facevano mille errori hanno fatto 3000 errori e treviso treviso era c'era in difesa stava facendo alcune cose fatte bene eccetera eccetera poi segna una meta e poi e poi ci si addormenta letteralmente cioè la prima meta era tave entrato come nel burro no entrato ha preso un bastava fare le cose normali neanche le cose importanti le cose normali neanche fatte bene fatte normali cioè adesso treviso fino a un paio di settimane fa era seconda in classifica siamo andati a perdere una partita che potevamo vincere veramente come volevano veramente come volevano con una squadra che ok i gallesi in casa loro tutto quel cavolo che vuoi ma gli scarlet ne avevano persa una due tre quattro cinque sei sette otto poi avevano vinto con cardiff nove dieci undici cioè ne avevano vinta una delle ultime undici e due delle ultime quindici ma se non si battono gli scarlet a casa loro così anche facendo sacrificare i giocatori che tornano dalla nazionale come lorenzo cannone eccetera con una rosa che secondo me è tipo il triplo del valore di quella degli scarlet ma dove cacchio vogliamo andare e mi dispiace tantissimo perché quest'anno treviso ci ha fatto sognare una stagione diversa e invece oggi rischiamo di esserci giocati giocati playoff oggi insieme alle ultime due con glasgow e l'einster però tu dici glasgow e l'einster sono prima contro seconda e mi fa arrabbiare perché un video così non lo facevo da dopo glasgow di due anni fa mamma che rabbia cioè un video così non lo facevo da dopo la partita con glasgow di un paio di due stagioni fa dove avevamo fatto veramente schifo adesso ho deciso di fare la reazione la reazione a caldo però non voglio fare stirante da youtuber del cacchio voglio fare voglio fare dei commenti mi sono preso tutti gli appunti i miei appuntini secondo fogli di appunti mi viene mi viene voglia di prendere strappare tutto e buttarli via cazzo ma è incredibile veramente incredibile che partita di merda che ha perso treviso all'inizio mi ero scritto lettura difensiva di drago meta di ratave che passa sopra come vuole e già all'inizio già all'inizio c'era un po un sentore una puzza una puzza da partita in galles che che te la neanche loro ma veramente che te la fai e te la disfida solo mi sembrava di vedere la partita dell'under 20 incredibile incredibile con con nemmeno quel dominio almeno che aveva in mischia l'under 20 e allora già all'inizio la terza cosa che ho scritto treviso in alcune scelte un po approssimativa questo era più o meno al decimo poi subito dopo scrivo treviso alcune cose un po superficiali dopo scrivo problema in rimessa laterale e tutto questo nel primo tempo tutto questo nel primo tempo mentre eravamo in vantaggio cioè tutto questo nel primo tempo mentre eravamo in vantaggio ratave fetch tutte tutte fotografie maile in rimessa laterale un disastro cioè maile ma come cacchio le tiri le rimesse laterali ma poi finisce il primo tempo nonostante tutto fatemelo dire senza mancare di rispetto per nessuno ma gli scarlet facevano talmente cagare che nonostante tutto e scusate se manco di rispetto a qualcuno ma è la realtà delle cose quante volte ce lo siamo sentiti dire al lato opposto nonostante tutto andiamo negli spogliatoi sul 3 a 13 ultima scelta andiamo negli spogliatoi non la giochiamo decidiamo dai tranquilli pam 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 andiamo negli spogliatoi bene vanno negli spogliatoi io cosa dico la cosa che devono fare è alzare il livello della precisione alzare il livello della pressione alzare il livello della concentrazione sicuramente Bortolami avrà fatto tremare i muri sicuramente avranno capito che bisogna alzare alzare il livello della concentrazione perché in sto sport nessuno ci regala niente nessuno ci regala niente bene che cosa fanno primo kick off primo primo kick off incomprensibile giocato corto diretto fuori di di 5 metri cioè non è che leggermente fuori diretta fuori di 5 metri quando tu entri nel secondo tempo e sei in una situazione dove devi concentrarti di più e la prima la fai diretta stai sicuro tra l'altro era già successa sta roba in passato stai sicuro che il secondo tempo sarà una merda boh uno dice vabbè ok prima mischia calcio di punizione contro grave nemer era entrato da un po di tempo tra l'altro non ha fatto una brutta partita poveraggio nemer ma in generale il benettono ha fatto una partita disgraziata ce ne mettono tre e io qua scrivo stai in campana ma il problema è che per tutta la partita io ho avuto la sensazione che treviso bastava che accelerasse un attimo bastava che facesse due cose fatte decentemente per esempio anche la meta che non segniamo che eravamo in stra inerzia offensiva dove Iseco va a passare dietro un giocatore ma lo vedrai che c'è un tuo compagno di squadra lì quella meta si poteva segnare in 47 modi diversi invece andiamo a farci chiamare un'ostruzione ma perché ma perché ma perché e niente e niente poi mischie reset due palle giudicate da ratave due palle giudicate da ratave male una la poteva prendere poteva giocare subito una la lascia andare in fondo disattenzioni errori ehm garbisi che tira fuori un passaggio un passaggio lungo marin eh leva le mani e Isecor in una presa portiere lui che ha fatto il portiere mi è venuto da dire in chat si fa sfuggire il pallone ehm in chat intanto la gente iniziava a scrivere che casino che caos non riusciamo a fare due cose di fila giuste ehm spenti bla 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 poi arriva e tutto questo intanto la partita ti stava mangiando il cuore la partita ti stava mangiando il il tempo piano piano noi eravamo belli beati tranquilli non riuscivamo a raccapezzarci e piano piano la partita ti stava uccidendo rimessa laterale importantissima lanciata storta di un Bernasconi che aveva lanciato meglio di Maile però lì anche lui si adegua alla mediocrità generale ecco mediocre mi viene in mente questa questa parola ragazzi non arrabbiatevi non arrabbiatevi quando fate le cose bene ve lo dico ma è partita mediocre mediocre affrontata con mediocrità non dico da giocatori mediocri perché non è così perché non è così ma bastava basta pensare anche nel primo tempo nel primo tempo ma cazzo c'è un momento in cui ehm maile e alla fine uno va alto e l'altro li va sotto e lo tira giù ma stavate dormendo ma siete ma siete rincretiniti cioè ma vedrete eh eh avrete un attimo di chiamate di gestione di quei palloni alti di di chi fa cosa cioè ma com'è possibile che su una palla alta uno vada su e venga tirato giù dal proprio compagno di squadra tra l'altro palla persa e situazione buttata via poi situazioni ne abbiamo avute sedici per 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 fare meta niente tutto un po' alla volta un po' alla volta il calcettino prendi fai le vogliamo aggredire ste partite sì o no perché sennò poi ce le portano via il calcetto vai a pali fai tre punticini ma caspita ma ci vogliamo imporre su ste partite sì o no che rabbia che rabbia che rabbia che rabbia mamma mia stasera ci guardiamo le zebre e speriamo di vedere una squadra almeno più cattiva e più concentrata che rabbia guardate da tifoso sono proprio arrabbiato anche perché adesso chiudiamo questo chiudiamo questa questo video di reazione probabilmente ci siamo giocati playoff perché adesso io stavo guardando i risultati su flash score che tra l'altro sono anche rincretiniti anche quelli perché hanno messo che ha vinto treviso invece ovviamente ha perso perché l'ultima meta gliel'hanno data e e quindi insomma ci siamo ci siamo ci siamo probabilmente giocati playoff ragazzi ci siamo probabilmente giocati playoff che rabbia vai sul flash score ci vedi quinti e invece ovviamente siamo ovviamente siamo ancora veremo superati adesso quasi sicuramente da da alster veremo superati probabilmente da alster a 34 noi adesso restiamo a 32 quindi veniamo superati da connacht ci si ci si avvicinano gli ospreys ci si avvicinano i lions rischiamo di venire superati perfino da cardiff mamma mia eravamo secondi fino a tre giornate alla fine con tutto che sembrava girare perfetto va bene ciao ragazzi ci vediamo questa sera ciao 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 ciao